Non solo capitale della cultura, per il 2024 il comune di Pesaro scalda i motori anche su un evento sportivo di richiamo planetario. Farà tappa proprio in città il 18esimo campionato mondiale di aerobica che a settembre 2024 vedrà la Vitri Frigo Arena ospitare atleti e spettatori da tutto il mondo in un evento presentato oggi in comune. Si tratta dei 18esimi campionati mondiali di ginnastica aerobica, una disciplina all'interno delle competizioni mondiali, purtroppo ancora non disciplina olimpica, speriamo che lo diventi presto. E' importante per Pesaro perché dà continuità a un progetto con la Federazione Ginnastica d'Italia iniziato nel 2018 quando qui ospitammo il Golden Age Gym Festival, proseguito nel settembre 2021 quando sempre alla Vitri Frigo Arena come Esa Tour e Pesaro Gym organizzammo il campionato europeo di ginnastica aerobica ed acrobatica e chiaramente l'asticella si alza sempre di più e dal campionato europeo siamo arrivati ad essere disegnati per l'organizzazione di un campionato mondiale, una disegnazione che naturalmente ci riempie di orgoglio e speriamo di non tradire, non lo faremo sicuramente, né le aspettative della città che ci ospita, Pesaro, chiaramente, la mia città, né della Federazione Mondiale, che ha riconosciuto la nostra professionalità concedendoci questa opportunità. Questa è una manifestazione speciale, è un anno speciale, è l'anno delle Olimpiadi, l'aerobica non è olimpica per cui diventa l'appuntamento importante per l'aerobica, arriveranno da tutto il mondo tanta gente, per Pesaro è una grandissima cosa. Dopo tre anni tornerà l'aerobica nella nostra città e ai grandi rivelli, ricordo i campionati europei del 2021 che hanno avuto tre settimane di sport alla Vitrifrigo Arena. Ritorniamo rilanciando questo progetto e ampliando quello che sarà il parterre di pubblico che ci sarà nella nostra città e di grandi atleti. Siamo soddisfatti perché siamo una città che negli anni ha sempre puntato sullo sport e sull'impiantistica sportiva e questa è la dimostrazione di come Pesaro, in sinergia con soggetti privati, abbiamo qui le scuole anche della nostra città, possa fare grandi progetti per lo sport pesarese. Ancora una volta le realtà di Pesaro collaborano a stretto contatto per realizzare qualcosa all'altezza delle aspettative, includendo in un evento di questo calibro anche l'Istituto d'Arte Mengaroni, che avrà il compito di realizzare il logo di questi tanto attesi mondiali. La premessa è che più che mai ci sentiamo onorati, gratificati, non mi vengono altre parole, perché è una manifestazione mondiale che ricade sulla nostra responsabilità e quanto mai edificante, edificante per un insegnante e per i suoi studenti. Cercheremo di fare il lavoro al meglio che possiamo, con tanto, tanto, tanto senso di responsabilità e gioia. L'appuntamento quindi è per settembre 2024, lo so che sembra lontanissimo, ma saranno 20 mesi in cui saremo impegnati assiduamente nell'organizzazione di questo evento. Abbiamo deciso di stabilire le date nella seconda quindicina del mese di settembre, immediatamente dopo la fine della fiera di San Nicola, in modo anche da dare una continuità e un prolungamento alla stagione turistica della nostra città, permettendo alle attività commerciali e anche alle attività alberghiere di, appunto, destagionalizzare, grazie a questo evento sportivo, la propria attività.